Oggi è stato il primo giorno di scuola per tutti gli studenti dell'Alto Garda, ma per quelli di Nago Torvole è stato un giorno particolarmente felice, in quanto hanno varcato la soglia del nuovo complesso scolastico che dopo dieci anni ha visto il suo completamento. Si tratta di un'opera il cui iter progettuale risale al 2004, poi per diverse cause i lavori sono partiti sei anni dopo, nel 2012, con il problema che ben due ditte affidatarie sono fallite, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini economici e temporali. A maggio 2015, dopo le elezioni, il sindaco Morandi si è trovato in una situazione non certo delle migliori, cantiere fermo e lavori ancora da eseguire, con artigiani subappaltatori in credito con la ditta in fallimento e che non intendevano proseguire con i lavori senza la certezza di essere pagati. Insomma, una sfida contro il tempo per riuscire ad aprire i cancelli in tempo per l'avvio dell'anno scolastico. La soluzione la si è trovata solo a luglio, dopo la nomina dei liquidatori della ditta e grazie a chi, ostinatamente, ha messo attorno ad un tavolo tutti i soggetti interessati per portare ad una soluzione. una sfida che evidentemente è stata vinta, grazie a tutte le ditte e i tecnici professionisti che hanno accettato di lavorare nonostante tutto e per il bene della comunità. Questa mattina siamo andati a vedere la nuova struttura. Permetto che effettivamente questa è una struttura che è una struttura di tutti, tutta la comunità, di tutti quelli che ci hanno creduto in questi anni e quindi il merito va esteso a tutti. Devo solo, con un po' di orgoglio in più, non solo perché sono sindaco attuale, cioè colui che ho nell'onore di aprire, di aver aperto questa nuova struttura. L'ho seguita ancora dieci anni fa quando ero assessore dei lavori pubblici in cui ho seguito la progettazione con l'architetto Bandera dell'Itea e quindi abbiamo, e ho lasciato poi l'amministrazione con un progetto finito e attendevamo adesso l'esecuzione e quindi l'apertura. Ho l'onore di essere diventato sindaco e di essere diventato nel momento in cui c'era bisogno di aprire alla conclusione. però un orgoglio maggiore sul fatto che in questi mesi, siccome c'è una ditta, la ditta esecutrice che ha fallito e che quindi, che è fallita e che quindi ci ha lasciato un cantiere fermo, io sono entrato a maggio del 2015 con un cantiere deserto, tutti hanno abbandonato gli artigiani perché non venivano pagati, la ditta fallita e non si sapeva più come procedere e in che tempi. E questa era una sfida, io direi impossibile allora, perché ormai le scuole erano, cioè da maggio a settembre, pochissimi mesi, ci siamo messi intorno al tavolo. Io su questo sono abbastanza, ci tengo a dirlo perché al di là della burocrazia, di tutto l'iter che ci aspettava in questi mesi, ci siamo trovati qui, in questo polo scolastico, con tutti gli artigiani, gente che ha lavorato e che aveva bisogno ancora di, cioè era ancora in credito con l'impresa. Ci siamo messi intorno al tavolo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo condiviso un obiettivo, quello di aprire le scuole, che dovevamo, eravamo in dovere verso una comunità di dare, dopo dieci anni, il polo scolastico. Ebbene, abbiamo veramente, è indescrivibile tutte le problematiche che abbiamo trovato, burocratiche, ma anche tecniche e anche economiche, però ci siamo riusciti, un milione di euro di lavori abbiamo fatto in questo mese, perché da luglio siamo partiti dopo quella riunione plenaria e in un mese abbiamo fatto oltre 500 mila euro di opere edili e 500 mila euro di arredamento. Veramente è stato un tour de force incredibile e impressionante, per questo che ne sono orgoglioso pur essendo arrivato negli ultimi tre mesi, però lo sono per tutta la comunità. È un grande giorno, un giorno storico per tutti, perché abbiamo anche le due comunità, Nago e Torbole, partendo dai bambini, che adesso si ritrovano assieme, a crescere assieme per il futuro della nostra comunità. Per quanto riguarda la scuola materna, è nelle stesse identiche condizioni, quindi sono agibili. Ad oggi noi possiamo consegnare le chiavi alla scuola materna di Nago, che è quella che dovrebbe entrare. L'ente gestore deve fare però una sua organizzazione interna, deve fare alcune scelte per entrare. Da punto di vista dell'agibilità della struttura è a posto, non manca nulla. La cucina, perché forse non ho detto prima che ci sarà un piccolo disagio dei primi giorni, ma proprio di questi giorni, sul fatto che ci sarà la palestra che verrà completata nella prossima settimana, un paio di settimane, e la cucina. Quindi nei primi giorni verrà garantito servizio mensa con il trasportato, però insomma tutto regolare, poi invece i pasti verranno cotti qui sul posto. Ecco, su questo si innesca appunto la scuola materna, che dovrà condividere appunto la cucina con le scuole elementari e su questo adesso le scuole materne si stanno organizzando. Mi auguro, anche se hanno già fatto un comunicato che resteranno lì tutto l'anno, a noi dispiace, perché vorremmo che entrassero in questa nuova scuola, per il bene dei bambini soprattutto, in primis, fin da subito o nei prossimi giorni. Il nido invece dobbiamo fare un bando, che non abbiamo fatto fino adesso perché chiaramente non avevamo certezze sull'apertura, faremo un bando e quindi nei prossimi mesi vedremo di assegnare anche e di aprire quella scuola. Per quanto riguarda i numeri, insomma, ad oggi abbiamo circa 160 bambini delle elementari, e poi quando si trasferiranno anche le scuole materne di Nago saranno una sessantina e poi invece il nido potrà avere una capienza di circa 20 bambini. Quindi questi sono i numeri un po' del polo scolastico di Nago.